Comunque siamo in lobby, Bari membro appunto dell'Eso Spades e Ciotto membro di N.S.Gaming Entrambi giocheranno quindi un PvP E... e niente, si si go go Stiamo streamando, sto streamando anzi da una nuova piattaforma La piattaforma è Open Broadcaster Search Diciamo per meglio, meglio conosciuta come OBS E praticamente appunto questa nuova piattaforma di streaming mi permette un delay maggiore di 20 secondi come era prima Ma addirittura qui ho messo 90 secondi di delay Bene, VCS Aurora Le Una mappa diciamo molto bella per i PvP ma diciamo sostanzialmente molto bilanciata per tutte e tre le razze Comunque andiamo a presentare i due giocatori Nell'angolo in alto a sinistra troviamo Bari membro degli AOS e Top Master Mentre dall'altro angolo troviamo Ciotto membro di N.S.Gaming Sempre Protoss e sempre Top Master Diciamo che Ciotto aveva switchato inizialmente a Terran ma poi ha deciso di cambiare Quindi sostanzialmente è tornato a quello che giocava i wall Se possiamo dire così Comunque intanto a 9 viene fatto il pilone quindi partenza normale Per i due giocatori che intanto stanno producendo sonde Vi ricordo che questa qui è la quindicesima coppa di qualificazione per Rimini Per le finali di Rimini appunto che vedranno 32 giocatori in LAN Quindi veramente un grandissimo afflusso di giocatori e speriamo anche di pubblico Per questo grandissimo campionato italiano Comunque Gate A12 per entrambi i giocatori Stesso praticamente timing leggermente in vantaggio Ciotto Perché probabilmente l'ha messo prima Viene preso un assimilatore A13 subito scautato però da Ciotto Da parte di Bari Che a questo punto probabilmente andrà per home for Gate O per un'altra giocata comunque di unità di Gate Viene preso anche un secondo gas Quindi attenzione perché la scelta di prendere due gas da parte di due giocatori Porrebbe portare ad un Arras o di Oracle Oppure di altro genere Comunque insomma Diciamo io quando vedo i due gas Mi metto anche abbastanza paura Perché di solito arrivano Arras molto pesanti da parte del Protoss Io sono Terran ricordo e anche Platino Comunque viene buttato giù un centro cibernetico da parte di entrambi Sempre molto in anticipo Ciotto rispetto al suo avversario Che comunque è in leggerissimo vantaggio a livello di probe Ne ha una in più Probabilmente quindi Anche se poi alla fine si compensa Perché comunque non è moltissimo il ritardo del centro cibernetico Circa 10 secondi di produzione Comunque la sonda Mandata a scout da parte 18 Torna alla base Ha finito il suo lavoro Ha scoutato praticamente tutto Sta laggando un pochino tutto Ma comunque È pronto il centro cibernetico da parte di Vari Mentre giù il nucleo della nave madre da parte 18 Che a questo punto è anche da parte di Vari Anche se comunque in ritardo È giù anche uno stalker Viene fatta la ricerca del portale dimensionale per entrambi i giocatori Vedremo un po' come giocheranno Appunto questa partita Viene fatta una sentry da parte di Vari Che probabilmente teme un 4 gate O comunque cose molto aggressive da parte del proprio avversario Vari torna a casa con questa probe Che era stata attaccata da questo persecutore E anche il Mothership Core Ora si fa aggressivo Anzi va veramente a vedere se c'è qualche unità Su questa Axel Naga Comunque viene presa l'espansione da parte di Vari Coperta subito da questo nucleo della nave madre Sostanzialmente la partita sembra essere tranquilla Ma attenzione perché Ciotto butta giù un corcilio del crepuscolo Butta giù un corcilio del crepuscolo Quindi probabili di T O Blink Stalker No attenzione Blink Stalker da parte di Ciotto Che a questo punto Che a questo punto si fa molto aggressivo subito Per questa prima partita Probabilmente è un Un B.O.3 Quindi vedremo almeno Un'altra partita Tra questi due giocatori master Entrambi Protoss Attenzione però Il numero di Sentry è molto alto Tre Sentry A wallare praticamente l'entrata Quindi Blink Stalker Forse sono la scelta proprio giusta Esatta Da parte di Ciotto Che Sfrutterà probabilmente il nucleo della nave madre Per darsi visibilità E poi Blinkerà Sull'altura Deviando appunto I forcefit delle Sentry Comunque è a metà della sua produzione Il blink I persecutori intanto Vanno in mezzo alla linea mineraria Teme qualche arras di Oracle O qualche altra cisata strana Presa alla seconda base Anche da parte di Ciotto Molto in ritardo Rispetto al proprio avversario In questo momento Ha un vantaggio importante di macro Ma D-Tech È abbastanza sotto Difatti stava Facendo una fabbrica robotica Mettere il suo avversario È Al Concerca ruscolo Beh oddio Insomma Vengono buttati giù 3 gate Oddio Due erano già stati creati Mentre un terzo Viene aperto In questo momento Vengono warpate Nuove unità Nuovi stalker appunto Da parte del giocatore Prolos Ciotto Che a questo punto Si muove aggressivo in avanti Vedremo un po' Questi stalker Cosa faranno Sinceramente Non ha moltissime unità Vari Per potersi difendere Da questi stalker Ma sicuramente Il cannone Del nexus Sarà utilissimo Per bloccarli Anche perché Questa Questa Base Molto Molto Come si dice Piccola E quindi Il cannone della base La ricopre quasi interamente Quindi Diciamo Buona scelta Da mappa Da parte di Vari Comunque Viene Attenzione Viene perso Però uno stalker Da parte di Vari Che a questo punto Vede comunque Tantissimi stalker E quindi Pensa sicuramente A un blink stalker Ma attenzione Perché non si è portato Nulla per poter Blinkare qui sopra Quindi probabilmente Non potrà fare Molti danni Comunque Vengono Warpati I nuovi stalker Da dietro Da questo proxy Pylon Messo Da ciotto Avanza Avanza fiero Ciotto Che a questo punto Però si vede Mamma mia Costretto a ritirare Perché praticamente Trova il cannone Del nexus Che gli sbarra la strada Non può ingaggiare Lì in mezzo Intanto esce un immortal Quindi praticamente Vari Ha counterato perfettamente La build di 18 Che a questo punto Si trova anche In svantaggio Di magro Anche perché ha messo La seconda Molto in ritardo Rispetto al proprio avversario Comunque questa Phoenix Darà visibilità A questi stalker Che entrano In main Ma veramente Due immortal Faranno la differenza Qui Distruggeranno Questo ammasso di stalker Attenzione Non deve pullare le sonde Però Brutta Brutta mossa Da parte di Vari Che comunque perde Parecchie Parecchie probe No oddio Non ha perso così tante Ma comunque Bravissimi Bravissimo Con i forcefield Veramente Vari Che a questo punto Ha guadagnato Un grandissimo vantaggio Giù anche un archivio dei templari E giù anche un santuario scuro Quindi Dark Templar E Storm Da parte del giocatore Protoss Giallo Vari A questo punto Dovrebbe pushare Perché ha veramente Tanta roba E il suo avversario Non ha niente Prima che arrivi Il santuario scuro A questo punto Forse sta andando a cercare Proxy Byron Forse Vediamo un po' Se riesce a scaurarlo Comunque posiziona In una No Lo vede Lo vede perfettamente Vari Che probabilmente Aveva visto Che il suo avversario Era passato di qua Quindi il Proxy Byron Era da queste Da queste parti Quindi Sostanzialmente L'aveva L'aveva capito Avanza Vari Con Niente Perché Sostanzialmente Rimane Sulla sua terza Non ne vedo Sinceramente Il motivo Si va a prendere Però una terza Proprio Vari Con questo Proxy Byron Probabilmente Vediamo un po' Di solito Si prende qui La terza Non lì sopra Probabilmente Questa prova Voleva piazzare Proxy Byron Sì sì È così Perché si muove In avanti In modo Molto aggressivo Vari Che a questo punto Anche grazie a questo War Prisma E Attenzione Perché non trovo più Ah eccolo qui L'Observer Scouterà perfettamente Eventuali Dart Templar Quindi Ottima mossa Da parte del giocatore Produs Vari Che a questo punto Si porta indietro Anche il nucleo Della nave madre Attenzione Perché il push Porrebbe essere vincente Bisognerà vedere L'ingaggio Viene in posizione Un Proxy Byron Davanti alla base Di Ciotto Vari Vari Indietreggia Aspetta La warpata Da questo Proxy Byron No Arrivano Zeloti da dietro Ha pochissimi gate Però a questo punto Vari che No Quattro gate No ci stanno Ci stanno Dai Comunque Quattro gate Dovrebbero reggere L'armata Del Protos Ma comunque Non ha veramente Niente Ciotto In questo momento Che ha pochissime unità E forse Solo Solo questi due Arconti Lo possono salvare Vediamo un po' Se Se Puscia Più che altro Vari Perché Rimane qui Fermo Addirittura Indietreggia No no Bruttissima mossa Qui da parte di Di Vari Che però si accorge Di essere in vantaggio A questo punto Dovrebbe pushare Ma ha paura Di questi due Arconti Molto probabilmente Infatti si posiziona Al meglio Viene scautato Anche il Proximalion Che era stato usato Per Bloccare la Terza espansione Del Protos Ma a questo punto Si muove in avanti Ottima mossa Da parte di Vari Che sostanzialmente Ha Deviato L'esercito Di 18 E si stava Per portare a casa Un Un Arconte Ma comunque Si ritira Perché probabilmente Non Riusciva a fare Molti danni Con questo esercito Ma a mio avviso Ha perso una grossa occasione Perché non aveva molto Il Giocatore Protos Giallo Ciotto Che A questo punto Andrà a prendersi Una terza Molto probabilmente Ma comunque Indietro Fuori anche I colossi Da parte Di Vari Che a questo punto Ha un controllo Della mappa Veramente importante Dall'Axel Naga Vede tutto Deve portare via Questo Zelota Che invece decide Di morire E difatti Addirittura Blinca indietro Ciotto Per non farsi Togliere Tutti quanti Gli scudi Bella mossa Da parte Il giocatore Protos Intanto Ah no Era comunque Un'allucinazione Quella mandata Da shotto In base Avversaria Ora però Dovrebbe Warpare Nuove unità Assolutamente Il giocatore Colosso Dove Dove Dov'è Dov'è No Era in produzione Prima Vabbè Comunque Due colossi In produzione Per Vari Che probabilmente Allora aveva Cancellato Il primo Colosso E E quindi Attenzione Però Si fa Aggressivissimo Ciotto Che con la carica Degli zeroti Prova a portarsi Giù La terza base Attenzione Deve Deve Ridirarsi Incredibile Vari Che Deve Deve Scappare Da questo Da questo Angolo Mortale Ma perde La terza base Attenzione Viene attivato Il cannone Del nexus Ma Ciotto Adesso Ha ribaltato Completamente Il game Non so Se è in vantaggio Di upgrade Si è in vantaggio Di upgrade Perché è Allo 0-1 Mentre Vari Allo 0-0-0 Quindi Attacca Ma c'è già un Colosso In giro C'è anche Un secondo Colosso Ma attenzione Perché l'ingaggio È totalmente Vincente Da parte Di Ciotto Attenzione Butta giù I colossi E uno contro uno Tutti questi Zeloti Probabilmente Faranno la differenza Pull a tutte quante Le sonde Il giocatore Prolos Vari Che a questo punto Sembra essere In In svantaggio Ma attenzione Mi sono perso L'attacco Con i DT Ecco perché Scendeva il supply Di 18 Che era andato invece In best trade Grandissima mossa Da parte di Vari Che a questo punto Probabilmente Andrà a portarsi A casa il game Perché Il suo avversario Può minare Da una sola base Mentre Vari Da due Grandissima mossa Me la sono persa Completamente Ero Concentrato Sul push Da parte di Vari Ma veramente Grande mossa Con i DT Non se l'aspettava Per niente Ciotto Che aveva pushato O probabilmente L'aveva visto E ha deciso Di andare in best trade Ma attualmente Non ha Non ha un rilevatore Veramente Il Il Giocatore Ciotto Che appunto Si trova in netto svantaggio A questo punto Veramente Un ribaltamento di fronte Incredibile Davvero Da parte di Vari Che adesso però Ora Si fa aggressivo Con questo colosso Con questo Warprism E ha molti minerali Per Warpare Quindi Probabilmente Arriverà L'attacco finale Ma soprattutto A questi Dark Templar Che faranno la differenza Nella mischia Vedremo un po' Deve attaccare Sta cincischiando troppo Il giocatore Protoss Che dovrebbe Essere più efficace Quando attacca Perché Porca miseria Pure prima Poteva chiudere Già il game A mio avviso Ma invece È rimasto Fuori Ad aspettare Che si maxasse Veramente Comunque Grandissimo Vari Che ha fatto Un miracolo Di No Più che altro Una grande mossa Di strategia Non un miracolo Esce fuori Nob server Probabilmente Si Si è così Ma comunque Se riesce a focusarlo Ha vinto la partita Ma viene attivato Il Cannone del Nexus Viene distrutta L'army composition Di Vari Che Anzi no Si ritira Vengono persi Soltanto Dei Zilot E dei Dei Dark Templar Se salva Soltanto uno Con sette Di vita LOL A questo punto Il Proxy Pylon Eccolo qui Warpa Solamente Zilot Vari Che si ritira Ha rimesso In funzione Nella terza base Che a questo punto Gli garantirà La probabile Vittoria Continua Larras Con questi Zeloti Che stavano Ricaricando La carica Detta così È proprio brutta Però scusate Il gioco di parole Ma è proprio così Qui però Attenzione Perché Ottima mossa Da parte 18 Che ingaggia Il punto giusto Cioè dove c'è Il cannone Vengono Warpati Tutti quanti Zeloti Da questi Da questi Piloni Veramente La partita è stata Bellissima Per il momento Sostanzialmente A questo punto Però addirittura Una quarta Vari Che si trova In grandissimo Vantaggio Veramente Vari Ha fatto Un miracolo Sportivo Ha distrutto Tutte le basi Operative Del suo avversario Lasciando Naturalmente La terza Con quei Tartemplar Ma quanti erano E si è difeso Egregiamente In base Davvero Io pensavo Che avesse perso Invece Il supply Scendeva Vertiginosamente Perché Aveva perso Numerosissime Probe Il proprio Il proprio Avversario Ma comunque Ora Ciotto Tenta di Rimaxarsi A monobase Addirittura Con Tutte le unità Di gate Non ha più niente Attenzione Vengono Warpati Infiniti Zeloti Sei Zelot In base Avversaria Che focussano La forgia Ora Parte All'attacco Sciotto Parte All'attacco Sciotto Ma è Praticamente Alla metà Del supply E Il suo avversario Ha tantissimi Colossi Non può Ingaggiare Difatti Si ferma L'Axelnaga Ora Avanza Vedremo Un po' Cosa Cosa Vorrà Fare Pulla Tutte quante Le probe Sciotto Che a questo punto Olinnerà di prepotenza Il proprio avversario Vedremo la lotta Di micro All'in Mamma mia Quanti colossi Però Quanti colossi Ben sei colossi Da parte Di Vari Che a questo punto Avanzerà Fiero verso la vittoria Ma si accorge Che il suo avversario Sta pullando tutto Quindi deve tornare In base Guardate il numero Di probe È praticamente Monoprobe L'esercito Di Ciotto Che a questo punto Veramente Sembra Ad un passo Dal GG Tenta di Focussare Tutti Quanti E di Fatti No Arriva Il GG Era impossibile Difendersi Da tutti Quei Colossi Focussare